ciao a tutte questo è un nuovo video sul mio canale è un video recensioni e vi voglio recensire il kakebo ossia il libro dei conti di casa il kakebo non è altro che una specie di plan che serve per tenere segnato tutte quelle che sono le nostre spese questo è un libro che usano i giapponesi da moltissimi anni ed è arrivato da poco in italia infatti il metodo giapponese per imparare a risparmiare questa è la versione del 2016 quella del 2016 rispetto a quella del 2014 è molto più bella prima cosa per la copertina perché comunque plastificata invece quella del 2015 non lo era quando lo si comprava online loro lo mostravano come se avesse una sovracopertina ma in realtà quasi a nessuna credo che sia arrivato con la sovracopertina infatti io cosa ho fatto come lo sono andata a ritirare l'avevo comprato su amazon e lo sono andata a ritirare sono andata subito in quelle cartolerie che fanno le plastificazioni me lo sono fatta plastificare anche perché il kakebo è comunque un libro che tiene in mano quasi quotidianamente quindi avere un libro tutto rovinato a me non piace ora ve lo mostro questo il kakebo in il vi lo scorro velocemente perché comunque come vedete kakebo il libro dei conti di casa qua vi dà comunque quella che è la storia quindi che cosa significa kakebo e un po della sua storia nella prima pagina vi mostra passo per passo come si utilizza e ve lo spiega veramente molto bene quindi queste sono le tabelle che voi andate a trovare all'inizio del mese una è quella che serve per registrare le entrate e le al e quella verde è quella che serve per le uscite fisse per le uscite fisse sono intese le bollette le rate gli affitti i mutui quelle spese che si hanno ricorrenti e tutti i mesi questo è un'altra schermata che noi andremo a trovare un'altra pagina dove noi ad esempio qua loro ci indicano gennaio e ci chiede quanto vuoi risparmiare e dopo ti dice quanti soldi in questo primo dato hai a disposizione questo mese ad esempio qua loro hanno messo 1250 dopo ti dice di fare quelle che sono le uscite fisse più quello che noi vogliamo risparmiare come obiettivo e ci fa uscire questo dato 648 ti dice togli dalle uscite fisse del mese questo dato questo simbolo con il salvadanaio a forma di porcellino sono i soldi che noi abbiamo a disposizione da spendere per il mese e questo è nella prima parte ed è quello che mi spiega qua vedete vi mostra come si comandare inserire le voci vi spiega come utilizzarlo perché adesso comunque ve lo mostro più nei dettagli questa è la pagina finale del mese quindi sono le due pagine che andiamo finali quindi qua dove andiamo a segnare per ogni settimana quanto abbiamo speso e qua si va a segnare per ogni settimana quanto si è speso nelle vari tipi di sezioni qua dopo ti dice quanto denaro avevi a disposizione ti dice quanto è speso e quanto è rimasto in questo caso nel loro esempio zero è molto carino come vi dicevo anche perché molto colorato l'anno scorso non era così questo qua è una prova una specie di quiz chiamiamolo così vi dicono sapete già usare il cupcake boh mettetevi alla prova e praticamente voi in teoria per ogni categoria dovreste andare inserire queste voci quindi queste iconcine e dopo qua vi dà le soluzioni un po un quiz beh io non l'ho fatto perché lo sto già usando dall'anno scorso quindi qua inizia l'anno gli anni sono l'anno è diviso in trimestri quindi il primo trimestre da gennaio a marzo io inizio a mostrarvelo già dal secondo trimestre quindi inizio già a mostrarvelo da aprile perché comunque marzo è già iniziato quindi ho già inserito dei dati che non penso che vi interessino insomma allora come potete vedere nella prima tabella che trovate è quella per registrare le entrate abbiamo diverse righe quindi possiamo inserire le entrate di tutta la famiglia oppure il caso anche in cui si abbiano più part time io ad esempio ci sono stati anni che avevo 3 4 part time quindi qua avrei messo per ogni datore di lavoro la mia busta paga quindi questo è uno dei modi in cui può essere usato mio marito vabbè ha un lavoro normale da 8 ore io dei part time adesso ne ho uno solo però ci sono stati anni che ne ho avuti 3 4 quindi erano sempre part time e quindi qua vai a inserire quelle che sono tutti i dati quindi inserisci la data la voce quindi di chi è lo stipendio e l'importo sotto si va a inserire il totale poi abbiamo un'altra tabella questa verde che è quella delle uscite fisse in questa tabella si vanno inserire l'affitto il mutuo quelle che sono le vari tipi di utenze quindi da quella telefonica quella della luce i vari tipi di spese fisse quindi ad esempio non so chi ha gli abbonamenti del tram del treno li può andare a inserire chi ha la palestra può andare a inserire chi ha le tasse scolastiche quale può inserire e dopo c'è un ampio spazio per vari tipi di rate quindi che possa essere la rata del telefono la rata della macchina quello che volete quello è libero voi avete rate lo compilate e qua in fondo mettete il totale delle spese fisse e quindi siamo già andati a compilare la seconda tabella del mese quest'altra tabella è quella in cui vi chiede quanto risparmierete ossia questo è il dato di quello che voi volete come obiettivo risparmiare per quel mese quindi possono essere 100 euro lo andate inserire qua qua dopo cosa dovete fare prendete la prima che è la tabella blu quindi questa inserite qua il dato che quindi queste sono le entrate meno le uscite fisse più il piano che voi avete deciso di risparmiare quindi il nostro piano di risparmio e qua avrete un dato sia il dato dei soldi che avete a disposizione per quel mese come potete vedere qua di sotto appunto c'è scritto obiettivo del mese prometto di quindi voi potete anche andare aggiungere varie note vi danno lo spazio per aggiungere le varie note ad esempio non so il motivo per cui volete risparmiare non so è per le ferie quindi vi siete prefissati che spenderete 1200 euro per le per le ferie 100 euro lo togliete già in automatico in modo che voi sapete che a fino anno avete quel quella quota per le vostre ferie le ferie è un esempio è non che qua inizia il mese come potete vedere il mese inizio di venerdì quindi loro cosa fanno mettono fino a giovedì come potete vedere poi a te in modo indicativo vedete che il colore non è nitido invece il mese corrente lo mette in grassetto qua vi permette di riportare per ogni settimana quali sono i soldi che avete a disposizione ad esempio la prima settimana avremo il dato iniziale come potete vedere ogni giorno è diviso in varie colonnine con vari colori e questo perché il kakebo divide uscite in varie sezioni quindi abbiamo la sezione sopravvivenza che a sua volta è divisa in tante sottosezioni abbiamo la sezione optional con tutte le sue sottosezioni la sezione cultura e la sezione extra noi qua possiamo andare a segnare tutte e tutto quello che sono le nostre spese quindi noi quotidianamente andiamo inserire nelle varie tabelle nelle varie tipologie di spese l'importo dopo di che però in categoria mettiamo un totale vedete c'è lo spazio per il totale e qua c'è lo spazio totale della settimana questi dati vi sono utili perché dopo nella pagina di riepilogo ve li chiedono tutti in questo modo voi vedete sempre sott'occhio quelle che sono le vostre uscite il kakebo dopo è la del mese tutto uguale logicamente quindi lo sfoglio solo velocemente perché non c'è niente di diverso i dati che andate inserire sono gli stessi le sezioni sono le stesse come potete vedere anche in questo caso il mese finisce di sabato la domenica ci viene inserita però a titolo informativo come potete vedere ha un colore molto più sbedito non è in grassetto questa è la parte finale quella che a tutti piace vedere a fine mese soprattutto se sono se si hanno risparmiato dei soldi quindi come voi potete vedere per ogni settimana voi andate a riportare quello che è il totale della prima seconda terza quarta quinta settimana se ce ne sono cinque e per ogni settimana mettete lì il totale in quest'altra pagina invece per ogni settimana mettete il totale parziale quindi per cultura optional spese extra e come vedete loro vi mettono a disposizione delle altre tabelline per magari per altri generi di spesa che loro non hanno tenuto in considerazione ritorniamo alla prima pagina quindi una volta che noi abbiamo fatto il totale di tutte le settimane noi abbiamo il totale della spesa mensile quindi qua riportiamo il dato quanto denaro avevi a disposizione quanto avete speso questo mese quanto vi è rimasto logicamente se vi è rimasto qualcosa in questa sezione sono soldi in più perché voi già all'inizio avevate deciso che volevate risparmiare una quota quindi l'avevate già tolta quindi questo dato in questo caso se voi avete risparmiato ulteriormente sono soldi in più che avete avanzato rispetto già a quelli che vi eravate prefissati infatti qua c'è un piccolo spazio per le note dove voi andate a mettere avete raggiunto i vostri obiettivi mensili avete mantenuto le promesse siete riusciti a mantenere intatti i vostri risparmi iniziali considerate i successi e gli sforzi di insuccessi e vi permette di mettere le note tutti i mesi si ripetono nello stesso modo quindi non è che sto qua a mostrarveli a fine mese c'è scusate a fine anno c'è il consultivo annuale non è che sei obbligati a compilarlo però comunque può essere utile soprattutto se si tiene il cachebo lo si tiene in libreria magari per vedere in modo molto riepilogato quelle che sono state le vostre spese perché comunque vi mette a disposizione diversi tipi di grafici 15 quindi qua avete i grafici riassuntivi annuali vedete si non è facilissimo fare questi video da sola anche perché non è il massimo della vita qua avete i totali annuali dell'uscita per categoria quindi per ogni mese vi fa mettere la voce qua avete un altro grafico suddiviso in sopravvivenza e optional questo è un altro grafico annuale come potete vedere proprio per vedere l'andamento delle spese ed è tutto così e dopo qua è il questionario che se uno vuole può compilare adesso ve lo mostro velocemente vedete vi fa delle domande a cui voi risponderete e in fondo c'è un altro spazio ulteriore per le note ci sono un paio di pagine vedete dove voi potete andare a inserire quelle che sono le vostre note le vostre considerazioni finali su quello che è stato l'andamento dei vostri conti allora io il cachebo ve lo consiglio questo è il secondo anno che io lo acquisto io mi trovo veramente molto bene perché nonostante io sia una persona molto precisa che amo a programmare io ho sempre tenuto tutti i conti io comunque li ho tenuti in agenda li ho tenuti sul telefono perché man mano che faccio le spese magari io uso molto anche la funzione del calendario quindi me le segno anche sul telefono io ho sempre tenuto segnato tutto però è un conto avere segnato in agenda in agenda non abbiamo solo quei dati abbiamo tanti dati quindi o uno si mette il cachebo in agenda ci sono persone che lo fanno ci sono dei refill stampabili si può benissimo fare però la mia agenda come avete visto nel video che vi ho fatto sul setup è già molto cicciotta così figuriamoci se ci metto dentro anche il cachebo cioè dovrei tutti i mesi metterlo, toglierlo perché sennò sarebbe una roba improponibile io ho un'agenda sola perché non avrei nel tempo comunque nella pazienza di tenere 10.000 io ho bisogno di un'agenda sola in cui io segno tutto quello che mi serve sulla mia agenda si trova io non posso avere 20 agende perché comunque io sono via di casa tutto il giorno raramente vengo a casa anche nella pausa pranzo pochissimi giorni e settimana mi capita io molto spesso sono via magari dalle 5 del mattino fino alle 5 di sera quindi ci sono dei dati che mi serve magari di avere sempre con me quindi non posso avere un'agenda che pesa 50 kg vi assicuro che già la mia personal pesa un casino io comunque oltre al cachebo io come vi ho già fatto vedere nel mio video quindi non ve lo rispiego vi riporto il mio video se vi interessa io ho anche altri tipi di piani di risparmi ho un piano di risparmi annuale che ho iniziato quest'anno per la prima volta e gira comunque già da un paio d'anni sui vari gruppi facebook si trovano comunque già anche le tabelle già fatte su Pinterest io me la sono creata da sola appunto perché quello standard prevede una somma o a scalare o in continuo aumento per me quel metodo è scomodo anche perché oltre a quello che è il cachebo quindi quello che voglio risparmiare col cachebo io ho già un piano di suddivisione di spese ossia io tutti i mesi metto via una quota per quelle che sono le spese di casa improvvise quindi può essere un elettrodomestico rotto una manutenzione io ho la sufa al pellet quindi tutti gli anni metto da parte i soldi per il pelle io metto via una quota tutti i mesi per l'auto quindi per auto io intendo il bollo l'assicurazione e tagliandi per entrambe le auto anche perché sia la mia macchina che quella di mio marito hanno la scadenza dell'assicurazione a distanza di due giorni l'assicurazione non la si può considerare una spesa improvvisa cioè magari non sai esattamente l'importo però l'assicurazione tutti gli anni ce l'hai quindi io metto via una quota che mi copre sempre tutto quello che sono quel tipo di spese logicamente non mi va a coprire se mi si rompe un pezzo in particolare dell'auto una manutenzione straordinaria io vado a coprire comunque due tagliandi io facendo i tagliandi tutti gli anni mio papà poi è meccanico quindi io tutti gli anni la macchina controllata la macchina di mio marito ha dieci anni non ho mai avuto un problema appunto perché la manutenzione è come su tutte le cose la manutenzione è importante io ho una stufa al pellet la mia stufa al pellet ha una manutenzione giornaliera settimanale una mensile che è quella da fare da parte nostra in più ho quella annuale da far fare a un tecnico quindi le manutenzioni sono importanti questo vale per la stufa al pellet perché comunque avere una canna fumaria non pulita può portare comunque a delle esplosioni a degli incendi questo vale per chi ha riscaldamento normale quindi una caldaia domestica quella che io ho per l'acqua calda le manutenzioni sono molto importanti perché comunque un prodotto ben tenuto è un prodotto comunque più efficiente questo è sicuro io vi dico mio papà è un meccanico io sono cresciuta con un meccanico io so che un'auto con delle manutenzioni fatte regolarmente con italiani regolari è un'auto che difficilmente riserva delle sorprese io vi dico quella di mio marito in dieci anni ha avuto due o tre stupidate proprio di problemi una è stata una perdita di una canettina di plastica un'altra volta un pezzo dell'aria condizionata basta io non ho mai avuto problemi al motore niente perché comunque tutti gli anni faccio fare il tagliando il tagliando da una persona che sono sicura che me lo fa come deve essere fatto quindi anche questo è importante ed è un video un po' che io vi riporto anche al discorso sui consumatori ho fatto un video apposta perché a me mi sono successi comunque vari casi in cui ho dovuto far valere il mio diritto come consumatore il consumatore ha dei diritti è giusto se questi diritti non vengono rispettati di farli valere ed è una cosa che io consiglio sempre è vero molte persone lasciano perdere me l'hanno detto tutti perché ci vuole molta pazienza bisogna mandare email bisogna scandalizzare i documenti bisogna fare molte telefonate io non ho problemi perché se io so che ho avuto un danno e non è colpa mia ma è colpa proprio di un'incuranza da parte di qualcun altro a me non mi sta bene quindi io mi lamento io posso chiamare 200 ore al giorno a me non mi interessa piuttosto chiamo però vi assicuro che le lamentele se sono accompagnate da quelle che sono comunque delle prove che certificano che quello che tu vai a dire non è una stupidata vi assicuro che portano sempre dei risultati a questo comunque per chi fosse interessato a questo discorso io vi consiglio il mio video che ho messo nella sezione utility ed è proprio un video incentrato sui consumatori sul diritto dei consumatori su dei casi pratici che a me mi sono successi e ve li ho portati come esempio perché sono utili sono dal più importante anche al meno importante però se si può ottenere qualcosa a titolo di risarcimento o comunque solo perché si ha un diritto perché no? non vedo è come un po' quando noi andiamo a richiedere dei campioni gratuiti certo non ci arrivano a casa pazienza non è la morte di nessuno però se possiamo richiedere un campione gratuito come sono stati quelli di Mu che ad esempio ha fatto un video tutorial per far vedere come si faceva la richiesta come si creavano come si potevano personalizzare come sono comunque le carte da parati io con quella sono sfortunatissima perché mi arrivano quasi mai io vi dico che da un anno e mezzo che provo mi sono arrivate due carte da parati e basta cioè mi sono arrivate dieci in una prima volta e cinque in un'altra poi ho dovuto fare un sacco di richieste per averle perché avevo provato a nome mio spettato dei mesi è arrivato niente a nome di mio marito mi è arrivato una volta un'altra volta avevo provato a nome mio non mi era arrivato niente dopo avevo fatto a nome di mio marito però di tutti i link che vedete sulle carte da parati a me mi sono venute solo da due siti e dopo comunque che ho dovuto fare più richiesta non so il perché io con la carta da parati sono sfortunata però lasciando stare comunque si e se non arriva non è la morte di nessuno ecco però nel momento in cui voi andate a pagare qualcosa allora lì pretendo perché quando una cosa è gratis è gratis quindi non arriva non ci si può fare niente non è che te la puoi prendere però se invece una cosa l'avete pagata magari avete fatto dei sacrifici perché vi serviva e dopo avete un danno comunque derivante dall'incuranza della gente no questo a me non sta bene comunque non voglio dilungarmi ancora su video che comunque potete andare nella mia playlist a vedere col cacchebo è tutto quindi io il cacchebo lo consiglio a coloro che hanno una busta paga alle famiglie in cui hanno magari anche più buste paga perché comunque come avete potuto vedere ha diverse voci quindi ci sono molti dati che si possono mettere io francamente lo uso per inserire quelle che sono le buste paga quindi quelli sono gli importi sono degli importi fissi e non ho problemi io non posso consigliarvelo per altri utilizzi perché io non ho negozi online io non ho la partita IVA secondo me sentendo comunque molte persone è scomodo in quel senso quindi magari lì uno forse può valutare di crearne magari da sé un refill alternativo se non sei capace di farselo creare magari in base alle vostre esigenze perché non è detto che il kakebo per me va bene e per un'altra famiglia vada bene comunque secondo me per chi ha un'entrata comunque fissa comunque ha una busta paga e vuol tenere proprio conto sotto controllo vi assicuro che è comodissimo perché non è come averlo l'entrata segnata nel planner l'uscita segnata nel planner non è nemmeno come utilizzare un'applicazione perché io ne ho scaricate diversi io avevo molte applicazioni scaricate dall'app store però non è la stessa cosa io vi assicuro che averle digitali averle cartacee non sono paragonabili è veramente molto diverso non ci credevo neanch'io fino a che non ho provato però avere proprio la visuale settimanale la visuale mensile addirittura suddivisa per le varie sezioni quindi io mi rendo conto di shopping quindi lo shopping è una roba in più quanto ho speso è molto utile io spero che questo video recensioni vi sia utile se avete qualsiasi domanda scrivetemela pone nei commenti io sarò sempre felice di rispondervi ciao a tutta e alla prossima